Ciao a tutti, in questo video continueremo a vedere come si comporta il channel manager durante le varie fasi di prenotazione. Nel video precedente avevamo visto appunto come il channel manager era in grado di importare tutte le prenotazioni attive dai vari canali e in questo video invece andremo a vedere come il channel manager si comporta quando si riceve appunto una prenotazione diretta dal proprio sito web. Al momento la situazione attuale è di tre prenotazioni e questa è la nostra disponibilità. Avevamo detto che su questo sito di test ci sono due tipologie di camere, una camera doppia e una camera tripla con rispettivamente 10 unità e una. Quindi andiamo ad aprire il front end del sito web di test e andiamo a fare una prenotazione come se fossimo un cliente del sito web. Selezioniamo la data di arrivo e di partenza, facciamo tre notti per due adulti. Andiamo a scegliere la camera double room deluxe. In questo sito abbiamo un solo piano tariffario. Andiamo a confermare la prenotazione con i nostri dati che sono già riempiti in questo computer. dopo di che procediamo con il pagamento. Quindi inseriamo i dati della carta di credito di test e paghiamo la nostra prenotazione che fino a questo momento era in attesa del pagamento. A questo punto la prenotazione verrà confermata e quindi il channel manager deve occuparsi dell'aggiornamento della disponibilità sui vari canali di vendita. Attendiamo la conferma, ecco qua, e apriamo e torniamo nel back end. Quindi andiamo nella pagina, nella lista prenotazioni e troviamo la nostra prenotazione confermata dal sito web. Andiamo a vedere la panoramica, quindi le notte selezionate sono dal 20 al 23. Ed ecco infatti che le date del 20 al 23 sono state modificate. Andiamo a vedere cosa è successo sul channel manager. Andiamo ad aprire la pagina panoramica e utilizziamo di nuovo la funzione di compare per vedere appunto la disponibilità effettiva presente sia sul sito web che su tutti i canali. la lanciamo e vediamo che appunto la nostra camera Double Room Deluxe è stata sincronizzata, quindi io sono andato a prenotare le notti del 20, 21 e 22. Il 22 ottobre come potete rivedere dal video precedente era con 9 unità e adesso è stato portato ad 8, 8 unità rimanenti. La notte del 20 e il 21 è stata scalata di una unità e quindi il channel manager ha sincronizzato tutta la disponibilità rimanente su tutti gli altri canali.